È stato trasportato con l'elicottero del Suem all'ospedale di Padova. Un uomo che si trovava alla guida di un'auto nel parcheggio di un centro commerciale a Conselve è stato colto da un malore improvviso e dopo aver perso i sensi è andato a finire contro alcune auto parcheggiate. Le persone presenti sono intervenute cercando di capire cosa stava accadendo e hanno chiamato i soccorsi. L'uomo avanti con le tasti era improvvisamente sentito male. Sul posto è atterrato il velivolo che lo ha portato a Padova. Le condizioni sono gravi e si trova in prognosi riservata.